Per chi come me non è un esperto e ha ospiti a cena e deve accostare dei piatti e dei vini, come fa? Io ho due tecniche, la prima è infallibile. Chiamo Mauro. Dario, dimmi tutto. Scusa Mauro, questa sera ho gente a cena, ho pasta asciutta con il caparossoe e il branzino ai ferri. Cosa gli metto come vino? Dario, sono le 7 e un quarto, vieni qua che facciamo prima. Invece, se voglio arrangiarmi, ho scoperto su questo libro di Giuseppe Vaccarini, Manuale degli Abbinamenti, Dieci Comandamenti dell'abbinamento, secondo Raymond Dumas, un professore giornalista francese che nel suo libro Guide Duvain ha stillato delle regole base per riuscire perlomeno a non fare errori grossolani. Quindi adesso vediamole. Numero 1. Nessun grande vino liquoroso, bianco o rosso che sia, deve essere servito con la selvaggina. Gli zuccheri residui del vino, infatti, renderebbero disgustoso il gusto selvatico della carne. Numero 2. Nessun grande vino rosso deve essere servito con pesci, crostacei o molluschi, a meno che non vengano serviti dei vini rossi leggeri di struttura e soprattutto dal limitatissimo contenuto di tannini, con una salsa a base di vino rosso. Numero 3. I vini bianchi secchi devono essere serviti prima dei vini rossi, anche se esistono alcune eccezioni in funzione dall'abbinamento proposto col cibo. Numero 4. I vini leggeri devono essere serviti prima di quelli robusti. Numero 5. I vini freschi devono essere serviti prima di quelli a temperatura ambiente. Questa indicazione vale anche per i vini bianchi, dalla spiccata acidità. Numero 6. I vini devono essere serviti secondo una gradazione alcolica crescente, in modo che il vino che si sta bevendo non faccia rimpiangere quello precedente. Numero 7. Ogni piatto di portata deve avere il giusto abbinamento col vino, scelta che deve essere fatta con cura e in sintonia con le sensazioni organolettiche di entrambi. Se si dispone di pochi vini, è consigliabile servire pochi piatti. Numero 8. Bisogna servire i vini nella loro migliore stagione, che non significa solo dal punto di vista climatico, ma anche dal punto di vista evolutivo. Numero 9. Prima di passare da un vino all'altro, è opportuno separarli con un sorso d'acqua. E infine il numero 10. Mai servire un solo grande vino nelle occasioni importanti. Questo deve essere sempre accompagnato da altri vini della stessa categoria oppure rango. Forse non sono proprio dei comandamenti, ma sicuramente sono dei buoni consigli, che sono stati ripresi dalla scuola italiana. E voi? Come fate?